Diletta le otta, e adesso recito. Non solo in uno spot. Di nuovo in tv per lo spot di un noto brand di intimo maschile, questa volta nei panni di scienziata esperta di underwear. La popolare conduttrice svela ancora una volta la sua verve brillante. E chissà che non sia questo il primo passo di un cammino nel cinema? L'avevamo lasciata, proprio su questi stessi schermi, nei panni di cliente di uno dei negozi di Intimissimi Uomo. Chiamata a giudicare il look di un avvenente acquirente alle prese con lo shopping, per poi lasciarlo. Dopo l'ultimo cambio in camerino, con un pugno di mosche in mano. La ritroviamo, ora, in un nuovo spot televisivo ancora per il brand di intimo, ma questa volta nelle vesti, addirittura, di scienziata. Diletta le otta torna sul luogo del delitto e biss a una mini prova d'attrice che la conferma, anche se solo in una manciata di secondi, potenziale attrice brillante. Ancora una volta un cliente tanto ignaro quando seducente e protagonista della campagna, entrato in un negozio. Il malcapitato, ma no, ben capitato, si trova improvvisamente catapultato in un laboratorio segreto. Dove testerà il prodotto in prima persona, seguito da una scienziata d'eccezione. Per l'appunto, il volto noto, anzi notissimo, del calcio in tv. Una versione ironica di Diletta, che forse non conosciamo. La diverte fare vedere questo lato meno istituzionale di sé? Mi diverte moltissimo, ero molto contenta quando ho lotto lo script. Faccio un lavoro che non mi consente di dare troppo spazio all'autoironia, purtroppo. Quando mi capitano occasioni così, sono molto felice. Sul set ci siamo divertiti molto, quella che vedete sul finale, è una risata vera. Anche se per pochi secondi, quella per questo spot è una vera prova d'attrice. Si tratta di prove generali di una possibile nuova carriera parallela o alternativa, o non ci pensa nemmeno? Ci penso e come. Il 16 dicembre uscirà il mio film con Alessandro Siani, il set mi diverte tantissimo, che sia per un film o per uno spot. Mi piace l'atmosfera. Il gioco di squadra, il gruppo di persone che fa un lavoro enorme, per più giorni, tutti assieme, anche per una semplice pubblicità di 30 secondi. Sono contenta di poter crescere così tanto, anche umanamente, a ogni esperienza professionale che faccio. Non teme, così, di poter mettere in discussione la credibilità e l'autorevolezza professionale che ha costruito in modo così saldo? No, non credo. Bisogna essere versatili, nella vita. Non si può andare sempre e solo in una direzione. Amo spaziare, sperimentare, provarmi in nuovi ruoli. Anzi, sono convinta che tutto serva ad arricchirlo, il curriculum. Conoscere tante sfaccettature di te, ti permette di dare il massimo in ogni cosa che puoi ritrovarti a fare, no? Il suo primo spot per Intimissimi è diventato cult. In rete ho trovato delle parodie dove al posto del modello c'è Lino Banfi. Lo sapeva? No, ride, ma a questo punto per il terzo episodio voglio proporre l'inedita coppia Leotta Banfi. Sarebbe pazzesco. L'ironia credo sia la chiave vincente di questi spot, già comunicare l'intimo maschile attraverso una Donna è un'idea divertente. Quando ci sono tanti meme, vuol dire che si ha raggiunto il successo. Una domame da un po' da marketing, secondo lei questi spot di intimo maschile, ma con una testimonial donna, sono rivolti più alle donne o agli uomini? Prende un po' tutti, credo. Le donne per i regali ai fidanzati, ai fratelli o ai padri. Ma prende anche gli uomini. Quanto, e cosa, l'intimo racconta di un uomo? La nostra personalità si esprime in tanti modi, anche attraverso l'intimo, perché no? L'intimo di questo spot è molto semplice, ma anche divertente, giocoso. Lo si sceglie in base alla propria personalità, racconta qualcosa di noi. Conta anche nel definire il sex appeal di un uomo, il suo fascino? Certo, assolutamente. L'ha mai sorpresa l'intimo di un uomo? Francamente no, non mi è mai capitato. Forse, a volte, le mutande del mio collega di radio Daniele Battaglia, sono orribili. Dovrei regalargliene un po' per Natale. Non le chiederò in che occasione vede le mutande di Daniele Battaglia. Lui mette sempre questi pantaloni a vita bassa. Ci scherziamo spesso su. Bisogna essere onesti, tanto il protagonista del primo spot, il modello Raphael Goubert. Quanto quello di questo nuovo episodio sono dei bellissimi ragazzi. Partecipa personalmente al casting? No, mi sono affidata ai ragazzi che hanno studiato lo spot. Vista la prima scelta, mi sono detta, anche la seconda sarà super azzeccata. E infatti. Potrebbe sembrare una banalità, ma la scelta dell'intimo è davvero una cosa strana, nessuno o quasi lo vede. Solo noi sappiamo come siamo vestiti sotto, eppure un capo piuttosto di un altro ci può mettere in uno. Stato d'animo e farci sentire diversi, più sexy, partici, sportivi, a seconda dei casi. Una sorta di segreto tra noi e noi. Lei come lo sceglie? Dice bene. La scelta dell'intimo dipende molto dall'umore in cui si è. A volte scelgo cose molto preziose, di seta, con pizzi. Quasi dei gioielli. Ma adesso, invece, con l'inverno, col Natale alle porte, a casa preferisco l'eleganza super comoda dei pigiami da uomo. L'anno sta per terminare. Che cosa si augura per il 2022? Che si possa tornare a vivere con più tranquillità, a cominciare dai momenti di festa che si avvicinano. Che si possa tornare a essere sereni anche in viaggio, per esempio. Che questo periodo così difficile che abbiamo passato, di grande riflessione, ci possa aiutare a fare meglio, in ogni cosa che potremo tornare a fare. A proposito di viaggi, ne ha in programma per la fine dell'anno? Vorrei molto, ma le norme mi spaventano ancora un po'. Intanto mi prenoto la terza dose di vaccino, così da stare ancora più tranquilla. Sta pensando a un viaggio a due? Ancora non ho pianificato proprio niente. Sono una da last second, nemmeno last minute. Mi sa che dobbiamo aggiornarci tra qualche settimana.